Un attimo a rilassarvi anche voi. Adesso è arrivato il momento topico del discorso. Ed è il momento di Clisius D. La più bella del mondo è quella della pomade. Lo dico io. La nota qua, è la nota principalmente usata da Federico nelle canzoni che ci proporrà. Poi alzata di un tono per arrivare alla funzione successiva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.